Che cosa significa nella vita essere imprenditori? A volte noi favoreggiamo di quei personaggi tipo Elon Musk, George Soros, Bezos, che hanno questi fanta miliardi, per me sono prestanome, vabbè. Ma non capiamo che lo siamo tutti imprenditori, lo è anche la natura stessa. Perché la natura fa un investimento verso se stessa e verso gli animali per creare e generare più vita. Infatti guardate la definizione di imprenditori. La persona che esercita professionalmente un'attività economica organizzata ai fini della produzione e dello scambio di beni e di servizi. O di servizi come volete. Questo a me sembra ciò che facciamo in continuazione nella vita quotidiana. Stando qui a Santo Domingo ho potuto vedere la vera economia, l'economia di sussistenza. Qui tra virgolette si vende tutto perché tutto è circolare, viene riutilizzato, viene scambiato utilizzando la moneta. E tutti vivono, riescono volente o non volente a mettere il piatto pieno a tavola. Ma che cos'è che fa la differenza fra un imprenditore e una persona tra virgolette che non lo è? Tralasciamo il fatto di mettere i soldi, tralasciamo il fatto di guadagnare soldi. È molto semplice. È la mentalità. Molti di noi pensano, sto spendendo i soldi, non ho abbastanza soldi. Cavolo, mi tocca affrontare questa spesa. Se invece noi cambiassimo il nostro modo di pensare, in sto spendendo i soldi, sto investendo i soldi nell'economia locale, nazionale, mondiale, avremo un mondo di opportunità in più. Letteralmente, cambiando questo paradigma, faremo sempre la scelta migliore possibile con i nostri soldi, perché stiamo investendo in economia e anche noi stessi, attenzione, e avremo molte più opportunità. È un conto che io vado in un negozio e spendo i soldi, compro qualche bene o servizio. Io invece investo in bene e in servizio e questo mi dà la possibilità di guardare molto più attentamente il mondo circostante e le opportunità che ho intorno. Ho fatto diverse volte l'esempio del computer, il quale dovete cambiarlo anzitempo nei miei progetti, però così funziona anche l'imprenditoria. Inizialmente fui nella mente di quello che oh cavolo, mi tocca spendere questi soldi, non ci voleva proprio. Ho cambiato subito mentalità, ho detto bene, posso investire questi soldi in economia. E mi sono inventato letteralmente, non so neanche come ho fatto, di riuscire a raddoppiare, quasi triplicare, l'investimento che ho fatto nel computer. È stato davvero incredibile, una volta che mi sono fermato e ho guardato tra virgolette indietro, è quello che è successo. Ed è successa la cosa più semplice che noi possiamo fare per essere letteralmente imprenditori, tutti i giorni, tutti i momenti, tutti i secondi, è stata quella di cambiare la mentalità, come ho detto poc'anzi, da spendere a investire. È stata una rivelazione. E in continuazione continuo a fare questa cosa e vedo sempre meglio, ma soprattutto investendo i nostri soldi, invece di spendendoli, avremo un ritorno anche a livello umano. Tratteremo meglio le persone, perché non cominceremo a vederli come qualcuno che mi sta levando i soldi o una spesa inevitabile. Ma li vedrò come miei compagni di viaggio, come miei amici, come possibili anche loro investitori verso di me. E pertanto il rapporto umano diventerà sempre più preponderante, sempre più al centro dei nostri investimenti, anche se fosse soltanto una pagnotta di pane, una mela o quello che volete, che vedremo totalmente la differenza, soprattutto in noi stessi e nelle persone che ci circondano. Serberò veramente un centro di energia che emaneremo una luce particolare. Perché vedremo l'altro come quello che è veramente, un essere umano che è degno di tutto, che è degno di investire verso di lui in amicizia, in cordialità, in amore, in condivisione e anche monetarmente. Come ho detto tante volte negli altri video riguardanti la moneta, l'esoterismo della moneta, l'economia di resistenza, lasciate perdere quella mentalità e dice no, fatelo, però non fatelo con l'intento di rivedere le cose indietro perché non funziona. No, no, fatelo con quell'intento. Io faccio l'intento di investire negli altri, perché poi gli altri possono investire in altri ancora e possibilmente anche in me. E funziona e funziona da grande. Invece la mentalità del perdente è quell'altra. No, lo investo perché cosa? Per un tornaconto collettivo, per un tornaconto naturale, che come ho detto la natura è l'unica vera verità. È l'unica vera economia circolare, economia che è pagata in anticipo, è un'economia di sussistenza. È l'unica che funziona davvero. Non dobbiamo inventarci nuovi sistemi, ma basta soltanto applicare quello che già c'è, madre natura. E vedremo, e vedrete, che cambiando la mentalità dalla spesa all'uscita, all'investimento, investimento in umanità, investimento come ho detto prima in umore, investimento anche economico, cambierà totalmente la nostra vita e faremo un salto in avanti, sia come uomini che come imprenditori.